Ciao, oggi faremo un video bellissimo, ci divideremo in due squadre e faremo salto avanti, stoppato, lì sul trampolino, dal trampolino al tappetone blu, ok? Va bene, le squadre le fanno Emma e Nicole No, ma Emma fatta? No, tu Ho provato Pari, bispari, bim, bum, bum Sei pari tuo, ok? Eh sì, la sfida deve essere serrata Io, solo perché mi farà morire da lì da ridere, c'è con la fata Fata? Ehi già Questo è un gesto coraggioso, un po' Sicilia, Napoli, Giada, Bea Squadra di Michi, perché vincerete? Perché abbiamo tanto spirito di squadra Emma, questa è la squadra di Emma Perché vincerete? Ma stoppato vale anche di pancia? No Allora, non lo so Vinceremo, vinceremo, vinceremo punto Perché vincerete? Ho detto, perché abbiamo la fatti Ah, perché avete la fatti, va bene Ok, allora la motivazione può essere valida Partiamo? Ancora pari No, cambia Dispari Parti Bim, bum, bum Tre, dispari tu Allora, ragazze, dobbiamo decidere però come fare Allora, ogni componente della squadra ha tre salti avanti Chi stoppa, la squadra che stoppa di più vince Cosa volete fare? Volete farlo alternato? Oppure volete fare prima tutta la squadra di Michi E poi la squadra di Emma? Allora, prima tutta la squadra Tutta la squadra Ok, allora, prima tutta la squadra di Nicola No, tutta la squadra ha detto Quindi fanno prima tutto loro E poi tutto voi Allora, attenzione Mi raccomando, i punti, ragazze Uno Dai, dai Due Ma Emma, ma tu parteggi per l'altra squadra? Eh, no 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 Yes Tre Quattro Cinque Sei Sei Sette Finito? Sì Siete sicure? Sette Sette Per la squadra di Michi Il numero da battere è sette Quasi Eh, ma lei si è la sua squadra, giusto? Eh, ma l'ho sbagliato Ah, è vero Vabbè, anche l'Erica prima quando sbagliava Ah, è vero Mizzica Questo è un boicottaggio, eh ed ecco la tanto attesa Faddy ragazzi dai recuperate secondo giro uno due tre ok quattro 5 5 vince questa fantastica sfida la squadra di Mikol con 7 punti contro 5 quindi perché avete vinto? abbiamo spirito di squadra perché? abbiamo spirito di squadra ah per lo spirito di squadra si ok soprattutto il tuo soprattutto il mio io si tantissimo si ti sei anche buttata sotto eh si infatti è un'ottacolare comunque esatto perché ci tenevo speriamo che questo video vi sia piaciuto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale lasciate tanti like e ricordatevi di attivare la campanella per non perdere nessuno dei nostri video ciao 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 ciao